Anche tu sei stanco di non avere più ispirazione? Quando ti siedi alla scrivania non hai più voglia di lavorare? Ogni cosa che fai ti fa schifo? Potresti avere un art block? Mi sedevo alla scrivania ogni giorno e non riuscivo a trovare le idee giuste Non sono riuscita a sbloccarmi fino a quando non ho provato Ciao a tutti, qui Alice Berti Finalmente ho trovato il tempo di girare questo video Direi che questa intro è stata sufficientemente stupida per introdurvi all'argomento di cui vorrei parlare questa volta Perciò iniziamo Non mi ricorderò mai che il fatto che la telecamera è qua Cioè tipo quindi dovrei guardare qui ma facciamo finta di niente Art block Tutti quanti ci siamo capitati almeno una volta nella vita In qualsiasi ambito magari lavoriamo Che sia scrittura, che sia illustrazione, fumetto, arte Insomma, penso che a tutti sia capitato almeno una volta Prima di tutto bisogna distinguere che tipo di art block stiamo avendo Non riesci a trovare idee nuove per la tua storia o per continuarla? Oppure non ti piace ciò che stai facendo? Se non riesci a trovare idee come diceva Stephen King Forse è perché la tua idea ancora è acerba e va lavorata di più Quindi o si cambia direzione o si trova un modo migliore per modificarla, per lavorare meglio Su questo poi, su come trovare l'ispirazione per storie eccetera Ho già fatto un video che potete trovare sul mio canale Ve lo lascio in descrizione Quindi oggi parleremo di un altro tipo di art block Se invece siete in quel mood in cui ogni cosa che fate non vi piace Non fate che compararvi agli altri Non vi piace nulla di ciò che fate Questo è l'art block di cui voglio parlare in questo video Cioè, allora cominciamo col dire che soprattutto in questo periodo è normalissimo avere l'art block Perché non abbiamo nuovi stimoli Perché è difficile viaggiare, è difficile muoversi, vedere nuove persone, conoscerne E quindi può capitare facilmente che appunto non si trovi l'ispirazione adatta L'art block per me di solito avviene in questa maniera Poi può essere diverso, penso in base alle persone Però credo che generalmente ci sia un filone comunque unico, qualcosa che ci accomuna Per me è quando, per esempio, ogni cosa che faccio non mi piace Tipo disegno e non mi viene come vorrei Oppure non faccio che vedere sui social i successi degli altri Capita a volte di stare troppo sui social Oppure scoprire nuovi artisti e dire Ah cavolo, guarda che figo, vorrei saper disegnare così anch'io O cose del genere Che però magari è il loro stile, non è il vostro Quindi è facile paragonarsi agli altri Soprattutto appunto con i social e tutto quello che abbiamo ora, no? O anche, semplicemente, come dicevo prima Essere intrappolati in una routine Tutto quello che facciamo non ci piace I motivi possono essere tantissimi L'importante è cercare di capire esattamente quali sono E cercare di contrastarli appunto in base a come sono fatti Io ho pensato di fare una lista di alcuni punti Che potrebbero aiutarvi nel momento di un artblock a sbloccarvi Quindi sono alcune idee che mi sono venute O che di solito applico io per cercare di sbloccarmi Il primo punto è non forzatevi A meno che non abbiate una consegna estremamente importante da fare E quindi dovete assolutamente disegnare quella cosa lì Cercate di non esagerare Cioè non forzatevi Non andate oltre i vostri limiti Anche se comunque parlando di consegne Di solito se si è sotto consegna Si è anche in una fase un po' meno creativa E quindi è un po' più meccanica diciamo E quindi le cose da fare sono anche un po' più sistematiche Quindi diciamo che la parte creativa è già superata Quindi qui parliamo prevalentemente appunto di quella che è la creatività Però il fatto che magari avete un artblock Può essere perché avete bisogno anche di una pausa Se l'artblock arriva quando non facciamo niente di ciò che ci piace Forzarsi di più e inutilmente Non ci aiuterà a fare di meglio Quindi a volte è importante anche prendersi una pausa Secondo punto Non mettetevi troppe pressioni addosso Quindi collegandoci al punto di prima A volte anche prendersi le pause Per ricaricarsi e trovare magari anche nuove idee O uscire dalla routine In modo da tornare a fare qualcosa che ci piace È importante Un'idea potrebbe essere quella di mettervi Nella mentalità di fare qualcosa senza uno standard di qualità elevato Senza il voler Senza l'aver per forza un obiettivo Perché spesso ci mettiamo nella condizione di voler fare sempre del nostro meglio Di mostrare agli altri cosa stiamo facendo sui social Di tenerli anche aggiornati Perché per carità anche quella è una parte importante Magari del nostro lavoro E quindi finiamo per fare delle cose che magari neanche ci piacciono Solo per stare dietro a quelli che sono i meccanismi dei social Perciò anche prendersi delle pause appunto Secondo me è importantissimo Quindi il mio consiglio è Fate qualcosa in totale libertà Schiacciate in libertà Dipingete Fate qualcosa proprio in maniera completamente libera E soprattutto che sia anche brutta Non mettetevi degli standard di qualità troppo alti In questi momenti Perché rischiate di bloccarvi ancora di più Quindi anche magari sperimentare con nuovi media Per esempio io quando sono in Artblock Tendo a fare cose molto più liberamente Tipo per esempio collage Strappo dei giornali vecchi E mi metto a dipingere sopra O cose di questo genere Quindi proprio dare libero sfogo alla propria fantasia Senza porsi obiettivi Senza blocchi Senza l'idea di fare qualcosa di preciso Di esatto Lasciare che il pennello, la matita, la penna Qualsiasi cosa usate Si liberi sul foglio bianco Perché questo non è una cosa che vi serve Per esempio una volta finito dire Oddio che bello, sono bravissimo Sì perché quando lo finirete Non dovete pensare oddio che schifo Dovete solo usarlo per sfogarvi praticamente Fate letteralmente Qualsiasi cazzata che vi venga in mente Sentitevi liberi di farlo solo e soltanto per voi stessi Non pensate che dovete per forza mostrarlo a qualcuno O condividerlo sui social Proprio libero sfogo completo Io di solito quando per esempio Sono appunto in Artblock E voglio anche sfogarmi così Disegnare qualcosa Ma magari essendo anche in Artblock Non ho nuove idee Uso alcuni siti O uso delle reference Così è anche comunque un motivo per allenarsi In ogni caso E volevo consigliarvene alcuni Perché magari potete trovare anche voi Ispirazioni in questo Vi posso consigliare alcuni siti O alcuni account Che vi possono aiutare a trovare un po' di ispirazione O comunque a trovare una base Per poter creare qualcosa Se proprio siete in completo E totale Artblock Da non sapere nemmeno cosa disegnare per sfogarvi Ovviamente c'è Pinterest In cui potete crearvi delle cartelle di cose che vi ispirano E quando non sapete cosa disegnare Ne aprite una a caso Vi salvate una foto La ricopiate nel vostro stile O comunque potete trovare moltissime ispirazioni E nuove idee Poi c'è Feeling Weird Club su Instagram Praticamente basta iscriversi alla loro newsletter Con il link nella bio E ogni mese scelgono un tema Su cui voi potete creare qualcosa Anche qui zero sbattimento Perché il tema lo decidono loro Voi dovete creare qualcosa Su questo È nato apposta per combattere gli Artblock O comunque per creare qualcosa di nuovo Qualcosa che sia anche fuori dalla comfort zone È multidisciplinare Quindi si parla di Potete fare Che ne so Foto Arte Musica Scrittura Poesia Quindi non pongono limiti Al tipo di arte Che potete sviluppare Quindi molto molto figo Un altro account Sempre su Instagram Che a me piace tantissimo È Still Here Still Life Vi dà la possibilità Di cimentarvi Soprattutto nella still life Quindi Nel ritrarre oggetti O cose comunque inanimate Che loro ogni settimana Mettono una foto sul loro profilo E voi La dovete ricreare Nel vostro stile Terzo punto Della nostra lista È quello di Svagarvi Ok È un po' difficile Quando Appunto La situazione magari è Come quella che abbiamo vissuto Nell'ultimo anno E non si può uscire tanto Però Con questo Non intendo per forza Uscire di casa O fare nuove esperienze Come Avevo già detto Negli altri video Ma può essere anche Solo semplicemente Porre Un blocco Allo Disegnare Quindi Cercare semplicemente Di fare qualcosa di diverso Un nuovo hobby Un nuovo interesse Cucinare Fare Letteralmente Qualsiasi cosa Vi venga in mente Tutto ciò che non prevede Lo stare seduti Alla scrivania Ovviamente Anche a me La cosa che ricarica di più Creativamente È viaggiare Conoscere nuove persone O vedere i miei amici Se non si può Ovviamente Poi anche magari Per una questione Che ne so Non per forza Per la pandemia Però Magari per una questione Lavorativa Che non si può uscire Perché magari abbiamo Consegne O per altri motivi Quello che voglio dire È semplicemente Cercare di staccarsi Dal disegnare Dal lavoro Finiamo di lavorare Consegniamo i nostri lavori E anziché rimetterci A disegnare Per svago Magari Cominciare a fare Qualcos'altro Questo è il motivo Per cui io Durante la pandemia Ho cominciato a imparare Il coreano Perché Ero tipo Disegno tutto il giorno Lavoro tutto il giorno Sempre con Disegno soltanto Finito di lavorare Non posso mettermi A disegnare di nuovo Per svago E quindi Ho deciso di Coltivare altri hobby E quindi per esempio Appunto anche imparare Una nuova lingua Guardarsi serie tv Film Leggere libri Penso che Soprattutto leggere libri In realtà Stimoli È molto più creativo Stimola molto di più La fantasia Rispetto a una serie tv O un film E quindi È un'ottima idea Per ricaricare Un po' le pile Quarto e ultimo punto Fate qualcosa di nuovo Collegandoci al punto 3 L'idea è Fare qualcosa di nuovo Un nuovo hobby Una cosa che avevate Messo da parte Un libro Che volevate leggere Da secoli Che avete nella libreria Che non avete mai aperto Come ho detto prima In realtà A me aiuta tantissimo Concentrarmi su altri tipi di arte Per esempio Quindi la pittura Oppure cercare Di sperimentare Con nuovi materiali Senza pormi Troppi limiti Però insomma Creatività Tutto tondo Insomma Cercare di fare Nuove cose Provare nuove idee Insomma Uscire un po' Dalla propria comfort zone Questo per dire Che non dovete per forza Concentrarvi su qualcosa Di creativo Per forza Cioè se vi crea Tanto disagio Tanto problema Inventare qualcosa Fate qualcosa di semplice Questo per dire Veramente Potete letteralmente Fare qualsiasi cosa Che non sia disegnare Perciò Provare Delle nuove esperienze Comunque Cercare di Non forzare Appunto Come dicevamo Anche prima Cercare di non forzare Troppo Le vostre idee Perché pian piano Torneranno Torneranno Più forti di prima Riuscirete A fare cose Che prima Non vi piacevano L'importante È che non vi facciate Abbattere Comunque Dall'art block Sono momenti Che passano Dovete sempre cercare Di ricordarvi questo Che qualsiasi momento Negativo Poi passerà E quando sarà superato Sarete felici Di aver resistito Quindi Non lasciatevi Abbattere Dall'art block Perseverate Momenti Capitano a tutti E va benissimo L'importante È accorgersi Che ci sono Comprenderli Accettarli E poi Andare oltre Un po' alla volta Siamo giunti Alla fine del video Questi erano Alcuni Dei miei consigli Ovviamente Se ne avete altri Condivideteli pure Nei commenti Oppure Taggatemi su Instagram Fatemi sapere Quali sono I vostri modi Per superare L'art block E Spero che il video Vi sia stato utile Volevo fare qualcosa Di un po' diverso Anche perché Quali sono I miei modi Per superare Questi momenti Spero che appunto Il video vi sia piaciuto Vi sia stato utile Ricordatevi di Iscrivervi al canale Lasciare un commento Un like Se il video Vi è stato utile E di attivare Le notifiche Potete seguirmi Anche su Instagram TikTok Tutti i social Dove condivido Giornalmente Appunto Questo genere Di cose Sul mio lavoro Sui miei fumetti E cose così Ciao Ciao